Oggi, a lezioni di etichetta, scopriamo come la famiglia Clemente mette l'amore nel proprio olio extravergine d'oliva. Come in tradizione di famiglia, l'olio biologico è estratto a freddo. L'olio Clemente è gustoso e adatto a una dieta sana. Le olive 100% italiane vengono scelte con cura, macinate nei propri frantoi e tracciate lungo tutto il processo produttivo. Olio Clemente, l'olio buono veramente.